Buonasera, parto subito con una domanda. Secondo voi si può scrivere di cibo senza scrivere di cibo? Proviamo a pensarci. C'è un cibo cucinato, un cibo mangiato, un cibo coltivato, ma c'è anche un cibo immaginato, un cibo pensato, un cibo sognato. Ecco, per me creatività è anche scrivere di cibo senza scrivere di cibo. Adesso vi racconto una piccola storia personale. Io sono nata in un negozio di genere alimentari, fisicamente. Era alla fine degli anni 70 in un piccolo paesino nel appennino romagnolo e una bottega di quelle piene di colori, di sapori, di profumi, di quelle che non ci sono quasi più. Di quel negozio io ricordo interminabili pomeriggi cercando di farmi passare il tempo. Ero una bambina con molta fantasia e mi fu subito chiaro che quel negozio e tutto quel cibo potevano essere un gioco. Avevo escogitato un passatempo formidabile. Chiudevo gli occhi e cercavo di mandare a memoria in ordine di apparizione tutti i cibi presenti nello scaffale. Se volete posso anche ripeterlo, ma non vi tedierò con questa cosa. Ma in questo formidabile negozio non c'erano solo tantissimi generi alimentari, era anche pieno di generi umani, di gente che veniva continuamente a fare la spesa e ognuno aveva un modo diverso di farlo. C'è chi arrivava con la lista, chi comprava sempre le stesse cose, chi sceglieva ogni giorno qualcosa di nuovo, chi si faceva consigliare, chi no, chi veniva una volta ogni tanto, chi tornava più e più volte perché aveva dimenticato qualcosa. Ecco, io osservavo tutte queste persone e da come facevano la spesa provavo a immaginarmi quella che poteva essere la loro vita, la loro casa, la loro famiglia. Avevo sviluppato questa speciale immaginazione che mi faceva vagare con la fantasia attraverso quel mondo. Ecco, tutto questo per dire che appunto ero una bambina con molta fantasia che guardava il mondo con gli occhi del cibo e ora sono un'adulta con molta fantasia che continua a spiegarsi il mondo attraverso il cibo. Oggi mi viene chiesto di parlare di creatività. Beh, cos'è per me il cibo oggi? Oggi non è solo un gioco naturalmente. Il cibo per me è un linguaggio universale che non ha bisogno di traduzioni. Il cibo, pensateci bene, è qualcosa che ti mette in contatto con te stesso e con gli altri. Il cibo è il più antico ma al tempo stesso più moderno dei social network. Perché basta una tavola apparecchiata con persone intorno e subito si innesca una relazione. Ecco, io ho scelto come materia espressiva la scrittura, la scrittura di cibo. La scrittura perché per me scrivere è come avere una bacchetta magica che fa apparire quello che è dentro di te, porta fuori quello che è dentro di te. Perché per me la creatività che cos'è? Per me la creatività vuol dire portare alla luce qualcosa che abbiamo dentro, qualcosa che è dentro di noi. La creatività vuol dire portare qualcosa di nuovo nel mondo. Tutti noi siamo un serbatorio inesauribile di idee, siamo idee ambulanti. Basta solo fermarci un attimo e provare a cercare quello che abbiamo dentro, osservarci. Serve attenzione, serve ascolto, serve intuito, serve anche intuizione. La creatività è quando vediamo per primi una stella cadente. La creatività è quando ci troviamo in un negozio a fare la spesa e troviamo finalmente quello che stavamo cercando. Ecco, vi provo a fare un esempio legato alla cucina, così io riesco a spiegarmi meglio. La cucina sicuramente è una materia creativa, no? Ma secondo voi, quando inizia la creatività in cucina? Inizia quando facciamo sfrigolare il burro nella padella o quando mettiamo la pientola a bollire con l'acqua? No. La creatività inizia prima, inizia quando andiamo a fare la spesa. Io, questa sera per voi, ho scritto la mia lista della spesa creativa. Vi ho detto, il cibo non ha solo una dimensione materica e produttiva, no? Il cibo ha anche una dimensione sentimentale, collettiva, culturale, quindi in questa lista non trovate cibo commestibile. Beh, come prima cosa comprerei meglio cardi che mais. La creatività ha i suoi tempi, serve tempo e i progetti maturano quando è il momento giusto. Ci vuole a volte un po' di coraggio per vincere quel pizzico di paura che abbiamo tutti, però, insomma, meglio cardi che mai. Il cardo è un vegetale che matura in inverno e quindi i progetti creativi maturano ognuno nel proprio momento. Poi penso che comprerei il pensato del giorno. Niente si crea da niente. La creatività ha bisogno di esercizio quotidiano. Gli antichi romani dicevano nulla die sine linea e vi assicuro non passa un giorno che io non scriva qualcosa. L'esercizio quotidiano è quello che ti permette di mantenere allenato lo stupore, l'imprevedibilità. Pensiamo quando andiamo al ristorante e nel menù troviamo scritto pescato del giorno. È un'incognita. Non sappiamo cosa sia, ma siamo certi che lo chef può elaborare qualcosa di delizioso. Andiamo avanti. Certamente comprerei un po' di passata. Cos'è la passata? È l'esperienza. La creatività vuol dire incamerare il numero più alto possibile di esperienze. Anche le più piccole, quelle che sembrano sciocche e inutili, prima o poi torneranno utili. Come quando facciamo in estate la passata di pomodoro. Mettiamo a bollire, facciamo i vasetti, li chiudiamo e li mettiamo nella dispensa. Noi non sappiamo se e quando li useremo, però lo facciamo. E magari può succedere che una sera torniamo a casa tardi, non sappiamo cosa mangiare e ci ricordiamo di quel vasetto di passata per fare un piatto di pasta. Andiamo avanti. Quarto ingrediente. A ciascuno il sugo. Creatività è scegliere una strada diversa, magari quella che non fa nessun altro e poi farla propria. Creatività per me è essere autentici. Che attenzione, ho detto autentici, non ho detto originali. Perché essere per forza originali non sempre vuol dire essere autentici, ma se siamo autentici sicuramente saremo originali. Come il sugo, no? Ognuno ha il suo. Il sugo che facciamo a casa nostra ha sempre un sapore particolare, più buono quello della mamma, della nonna e nessuno, neanche il più grande chef sarebbe in grado di ricrearlo. Andiamo avanti. Sapete cosa dico quando mi chiedono? Ma com'è fare il tuo mestiere? Tu che vai tutte le settimane in giro a provare ristoranti nuovi, che conosci gli chef, provi assaggi, cibo, vino. E io dico, devo guadagnarmi il caviale quotidiano. Qualcuno deve farlo. Qualcuno deve, appunto, girare l'Italia, il mondo, alla ricerca delle nuove creatività che ci sono sul cibo. Però è un lavoro duro, è faticoso. La creatività comporta anche duro lavoro, anche se, appunto, è cosparso di caviale. Andiamo avanti. Come quinto, sesto ingrediente, direi le cozze. Se sono cozze, si apriranno. La creatività ha dei limiti, la creatività vuole dei limiti. Proprio dove c'è un ostacolo da girare o un muro da scavalcare, lì si annida la creatività. I limiti devono essere abbracciati perché sono una risorsa. Ho detto limiti? Ho detto limiti? Volevo dire mitili, cioè le cozze. Mitili è l'anagramma di limiti. Le cozze per essere mangiate devono essere aperte e ci sono anche tanti modi per farlo. Però, fateci caso, ce n'è sempre qualcuna che non si apre. Un marito o un maritozzo? Bella scelta. La creatività è contagiosa, quindi bisogna circondarsi di persone creative, frequentare ambienti creativi, perché la creatività è un'energia che passa di gente in gente e quindi la creatività ha bisogno di nutrirsi dell'energia degli altri e della condivisione. Andiamo avanti. Ecco, prenderei anche un po' di avocado di me stesso. Creatività è difendere le proprie idee, essere in prima linea, essere i primi fan di noi stessi, scegliere il proprio progetto creativo e buttarci dentro tutto il cuore. Non a caso l'avocado ha un cuore molto grande. E poi riso tanto. Io, per me la creatività, spero lo abbiate capito anche da questo intervento, è non prendersi troppo sul serio. La creatività è leggerezza, è gioco, è sicuramente fatica, è duro lavoro, però a me piace alla fine di un progetto dire abbiamo faticato tanto, è stato bello e abbiamo tanto riso. Dulcis in fondo, qualche cassata. Qualche cassata bisogna farla. Creatività è concedersi anche la possibilità di sbagliare, di provare, riprovare e di fare appunto qualche cassata. La cucina in questo caso è un'ottima metafora e ci viene incontro perché non tutte le ciambelle riescono col buco, perché a volte il vino sa di tappo, però come diceva Julia Child, la cucina è il posto dove puoi mangiare i tuoi errori e non sempre succede nella vita. Bene, con questa lista della spesa che vi invito a fare vostra, io ho creato nei miei quasi vent'anni di attività tanti progetti, tanti progetti che qualcuno ha definito particolarissimi, perché sposo il cibo in un binomio fantastico come direbbe Gianni Rodari, lo sposo sempre a qualche cos'altro. La mia rivista Dispensa in cui racconto le storie di generi alimentari e generi umani. Libri in cui il cibo diventa un dialogo e qualcosa che tiene insieme il mondo dell'amicizia. L'Atlante di geogastronomia, in cui il cibo mi serve per ridisegnare dei confini e dei limiti geografici e dividere il mondo in spazi culinari. E poi ancora, 24 Hour Pizza People, guida alle città per appassionati di pizza. E poi fame concreta, perché il cibo non è solo quello che mangiamo, ma attenzione, guardiamo dove mangiamo. Quindi un progetto dedicato alla ceramica da tavola, provviste per chi va a fare trekking. Trekking è cibo e naturalmente bisogna mangiare anche quando si cammina. Vedete quanto è ricco il mondo del cibo e quanto il cibo è veramente un linguaggio creativo. E poi innesti, dove parliamo di cibo e di sostenibilità. Bene, dopo tutte queste parole, forse state pensando che tutto quello che vi ho detto è aria fritta. E forse avete ragione, perché la creatività non ha liste, la creatività non ha regole, non ha manuali e non ha maestri. La creatività non si impara. La creatività, per me, è il mistero bello che lega le nostre idee al mondo. Grazie.